51 giorni dopo il derby di campionato torna Rimini Cesena, ancora alla Romeo Neri, dove l'11 settembre scorso si imposero di misura i bianconeri. I biancorossi, la terza gara di fila in casa, vogliono rifarsi di quella sconfitta e dello stop subito sabato per mano della Carrarese, che ha interrotto a 5 la loro striscia positiva. Il Cesena arriva alla sfida di Coppa Italia di Serie C, con alle spalle 4 vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato, che hanno allungato a 7 la serie di risultati utili ed il quarto posto in classifica con 21 punti, 3 in più di Laverone e Compagna, quota 18. Gaburo ritrova lo Duca, restano in infermeria Sereni, Piscitelli e Allievi. Solo 4 giocatori dell'11 titolare di sabato sono in campo dal primo minuto, Pannelli, Pietrangeli, Delcarro e Santini. All'undicesimo, dopo la combinazione tra i gemelli Cristian e Steven Spendi, Francesconi, Scaldi, Guanti di Galeotti, con una conclusione dal limite dell'area. Il numero 1, Biancorosso, blocca Sicuro. Al ventiduesimo, secondo corner per il Rimini, Rossetti batte lungo, Francesconi, cintura Santini a centroarea e l'arbitro indica il dischetto. Dai 11 metri si presenta lo stesso Santini, che spiazza Lewis, Rimini in vantaggio. La mitraia del bomber Biancorosso, che tocca la doppia cifra fra gol in campionato e gol in Coppa, indispettisce la panchina bianconera. E' spulso per proteste per il rigore concesso alla Rimini, il tecnico ospite toscano. Al venticinquesimo, il cross di Adamo, deviato da Delcarro, diventa insidioso per Galeotti, che ci mette i pugni. Steven Spendi calcia sicuro, ma Pannelli salva di testa, solo angolo per i bianconeri. Al terzo della ripresa, cross da sinistra di Mercadante, colpo di testa di Ferrante, pallone alto. All'ottavo, Averi parte da lontano, avanza, entra in area, guadagna le linee di fondo campo e mette un pallone al bacio che Santini deve solo sospingere in rete. Due a zero. Undicesimo sigillo stagionale tra campionato e Coppa per il bomber Biancorosso. Questa volta la mitraglia è sotto la curva est. All'undicesimo, Brambilla per Ferrante, che è a larga sinistra. Cross con il contagiri di Mercadante per l'incornata vincente di Brambilla. Rimini due, Cesena uno. Partita subito riaperta. Al sedicesimo, corner corto degli ospiti. Traversone di Brambilla, Pannelli allontana di testa, Francesconi calcia dal limite, Galeotti si supera e mette in angolo. Al quarantesimo, punizione per il Cesena. Chiarello tocca per Ferrante, la battuta del capitano bianconero e centrale, l'estremo di casa para. Al quarantaseiesimo, Chiarello allarga per Albertini. Cross in area, Ferrante colpisce di testa, timide proteste dei bianconeri per un possibile tocco di mano di Tofanari. L'arbitro lascia proseguire. Al quarantanovesimo, Udo spara. Galeotti ribatte, il tiro di Conte che deviato da Rossetti sorvola la traversa. Dopo quattro minuti e ventitré secondi di recupero, arriva il triplice fischio. Il Rimini vince 2-1 e passa il turno. Negli ottavi di finale affronterà la vincente della sfida tra Vicenza e Arzignano.